Ciao bimbi, oggi voglio fare con voi un esperimento super affascinante. Vedremo come olio e acqua, in questo caso acqua colorata, non si abbracciano mai. Nella nostra cettolina con l'olio vedremo quindi galleggiare tutte le goccioline di acqua colorata. Iniziamo subito! Come potete vedere abbiamo bisogno di pochissimo materiale. Ci servirà innanzitutto una ciotola, io utilizzo questa di vetro, abbastanza capiente. Poi avremo bisogno di olio, io utilizzo questo di semi di girasole, voi ovviamente potete utilizzare quello che preferite, quello che avete in casa. E infine ci servirà del colorante alimentare, dell'acqua, quindi andremo a creare la nostra acqua colorata. Io come colori ho scelto il verde e il viola. E infine due pipette. Come prima cosa non dovremo fare altro che andare a versare l'olio all'interno della nostra ciotola. In questo modo. Ecco qua. E poi possiamo finalmente osservare la magia. Ora, finalmente, utilizzando le nostre pipette, possiamo andare a versare le gocce di acqua colorata all'interno dell'olio e vedere come non si abbracceranno mai, mai, mai. Vediamo subito cosa succede. Proviamo anche con il verde. E vediamo che le nostre goccioline di colore un po' rimangono in superficie e un po' sul fondo. Ma si distinguono molto chiaramente rispetto all'olio. Buon appetito! Buon appetito! Eccomi qua bimbi, esperimento assolutamente riuscito, fatemi sapere se lo riproducete a casa e come sempre buon divertimento!